Mi chiamo Maurizio Riva e faccio parte della Banca del Tempo di Carnate, di cui presento mia figlia Lucia. Le Banche del Tempo in generale hanno come punto fondamentale quello di scambiare tra i soci aderenti dei servizi in relazione al fatto che ognuno di noi è capace di fare qualche cosa. A travesco, quindi non circola di narra le Banche del Tempo, ma soltanto ore che vengono registrate attraverso degli assegni, facsimili agli assegni normali. È quindi un'associazione di promozione sociale, non di volontariato, che promuove la reciprocità tra le persone in relazione alla dignità che ognuno di noi ha nel saper fare comunque sempre qualche cosa. Quindi i servizi sono più molteplici, vanno dal trasporto, all'organizzazione di una cena, a comunque altra cosa che uno possa saper fare in maniera virtuosa e professionale. Siamo associati a associazioni...